Questo è un film drammatico, realistico, crudele, ma al tempo stesso è un film allegro e spensierato. Ti ricordi Dracula il vampiro? Eh, come no? Quelle so vampiri, quelle quando ti afferrono, ti portano via tutto quello che c'è in saccoccia. Oh, io in saccoccia c'ho la pensione di 8000 lire. E che so 8000 lire? Quelle con 8000 lire ci fanno colazione alla mattina. Ma, ammazzole come mannino. Quelle non ci vedono per niente. Mo se metteva a piangere. Ma a me quelle non interessano più, tranne una. Di un po', ma a te piace Massimo. E chi è Massimo? Ma l'ingegnere. Vuoi anche tu un autografo? No, io voglio il numero del telefono. Stanotte non dormi, sino mai fai morire d'amore. Che st'ora te può dà' una vera eternità. Ti amo, Elena. Una barca va su me e non la fremmo a niente. Vedi? Non c'è un mannino pezzetto di vidella senza polverina. Sono tutto tuo. Twist, Lolite e Vitelloni è il film che agita i problemi della gioventù bruciata. Perché se mi metti di fronte il ginocchio non mi arriva a vero. Dunque io sto così, eh? Il ginocchio sotto. Dunque, ha capito? E lo spiccite. E state buoni. Ma che vuoi vedere? E' al plastico. E' buona. Twist, Lolite e Vitelloni è un film serio. Un film che vi farà divertire dal principio alla fine. Barone lanciarozza dei miei stivali! Come si permette lei, eh? Dov'è quel delinquente? Quale delinquente? Vittorio Emanuele è il suo figlio! Che cosa cerca da mio figlio? Cerco mio figlio che sta con lui! Per, per, per un accidente che lo spacca! Questo film non è solo un grido d'accusa, ma è anche un film d'amore. Il conquistatore! Mi scazzia! Fermi! Fermi! Ma che state facendo? È stato lui a cominciare. E va bene, adesso basta! Per la mia! Questo è il film dell'imprevisto. E se tutti gli imprevisti fossero così... Per, 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 per... Twist, Lolite e Vitelloni Un film diretto da Marino Girolami Distribuito dalla Ionia Prossimamente qui